Facciò lo spettacolo con uno spettacolo del cantante di me che ha sposato la... l'amantaggio, il coso... E vedrete che ci siamo fatti una melodia enorme in un momento per tre e per beneficenza cantare con un vestimento di ragazzi e pubblici. E lui fa questo genere, questo naturalismo strato con la mamma del taglierino fa tutti questi segni sul colore, con il sapore, con lo straccio finché è creata la Falmude e se guarda insieme dall'idea di una cosa tipo una Falmude dell'Amazzonia si, molto, molto fisica questo invece è la Feri, di Torino e questo è il sole che beve l'acqua ma è vero che il sole beve l'acqua faccio vedere adattere... questa è una data purtroppo... la nostra posizione è un scopo su tutto il piano ecco perché io ci puoi parlare di questo posso parlare di questo e... e... Grazie.